Ultimo giro nel girone C di Serie C. Dopo i tre punti strappati alla Juve Stabia, il bilancio al giro di Boa non può essere che positivo in casa. Audace Cerignola, gli uomini di pazienza hanno indossato i panni di matricola terribile in questo girone di andata. 27 punti raccolti in 19 partite con la squadra al quinto posto. Lo storico 2022 dell'Audace intanto si concluderà con il secondo appuntamento consecutivo interno. Gli Ofantini infatti ospiteranno il Monte Rosituscia al Monte Risi per la ventesima giornata. Una partita che con la mente ci riporta all'inizio del nostro viaggio, all'inizio del nostro percorso dove abbiamo avuto subito un impatto forte, un impatto con la realtà che ci ha dato una scossa, che ci ha fatto rendere conto a cosa andavamo incontro e che poi successivamente ci ha dato la possibilità di andare a correggere quelle che erano le cose che un po' ci mancavano. Alla ricerca dei tre punti anche il Foggia all'ostacolo Torres in trasferta nelle ultime uscite. La macchina rosso-nera è tornata a viaggiare a pieno ritmo. La vittoria esterna di Torre del Greco ha permesso alla squadra di Gallo di agganciare la zona playoff. Ora però c'è voglia di confermarsi e l'incrocio di Latina è la classica prova del 9 da superare. È una partita con una squadra che ha qualità, che ha qualità nei singoli, che è organizzata. È una partita di spessore, il Foggia deve fare una partita altrettanto di personalità e di spessore perché vogliamo provare a chiudere bene questo anno e iniziare chiaramente il giorno di ritorno con qualcosa da portare a casa. I fari della ventesima giornata saranno puntati anche sul derby Taranto Monopoli. Gli uomini di Capuano si trovano in una forma strepitosa, 9 punti nelle ultime tre uscite. Il 5-1 contro la Gelbison invece ha svegliato il Monopoli dal torpore degli ultimi mesi. A chiudere il quadro infine Virtus Francavilla-Torris.